Per la rubrica Pasta Lovers, questi sono i miei gnocchi con crema di zucchine alla menta e sgombro grigliato deliciosi in olio di olio. Iniziamo. Patate già lessate, le schiacciamo bene e facciamo gli gnocchi. Sale, grattatina di pepe, un ovetto, lavoriamo bene, poi aggiungiamo la farina. Gnocchetti pronti. Prepariamo crema di zucchine, ragazzi. Le tagliamo fini fini, così cuoceranno più velocemente. Filo d'olio, spicchio d'aglio. Quando siamo in temperatura, cagliamo le zucchine, menta, basilico e facciamo andare. Sale e frulliamo. Rimettiamo in padella e tuffiamo gli gnocchi. Filetti di sgombro grigliato all'olio d'oliva deliciosi. E finiamo con una grattata di pecorino serbe. Ragazzi, una ricetta veloce e semplice da realizzare. Provate a rifarla e fatemi sapere nei commenti. Se è venuta bene, ciao! 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 Ciao!